Buonasera dall'Aquila, da Reteotto, solenne processione del Cristo morto, del Venerdì Santo. Le immagini di Donatello Ricci ci mostrano la Basilica di San Bernardino con i primi gonfaloni di questa processione che è una tradizione molto importante e antica per la città dell'Aquila. Il nostro gradito ospite anche questa sera è Don Renzo d'Ascenso, parroco delle anime sante. Parroco del Duomo, adesso sta collaborando alle anime sante, parroco del Duomo e con Don Renzo parleremo anche di questo. Rispetto alla processione dell'anno scorso parlavamo dei lavori al Duomo ancora non iniziati, quest'anno c'è anche la buona notizia dello sblocco di quel cantiere. La processione del Venerdì Santo, dal 2000 vediamo qualche cenno storico, la organizzano i Cavalieri del Venerdì Santo con i frati di San Bernardino e con la provincia dei frati minori di San Bonaventura. La scorta d'onore, vediamo anche questo particolare, quest'anno è affidata alla Polizia di Stato e è una notizia anche questa molto bella, proprio all'indomani di un'altra importante notizia per quel che riguarda la questura dell'Aquila che è tornata in fascia alta quindi questo significa che il governo metterà più impegno uomini e mezzi per la Polizia Aquilana. Quest'anno i Cavalieri hanno dovuto cambiare un po' il percorso perché ci sono dei cantieri importanti all'Aquila, c'è quello di Piazza Duomo per il restyling ma c'è anche quello del corso stretto per cui rispetto agli anni precedenti c'è stata una lieve modifica. Un altro particolare importante di questa processione che è unica per i simulacri di Remo Brindisi e per altre opere di artisti di importante fama contemporanea l'unicità sta proprio in queste opere poi che sfilano tra le vie del centro storico e quest'anno un'altra novità importante che torna nei portafiaccole realizzati nel 2001 con disegno dell'architetto Giuseppe Chiarizza che sono stati dislocati nel percorso. Una processione importante questa del venerdì santo perché è molto longeva nel senso che è stata interrotta soltanto due volte a causa del terremoto ovviamente e della pandemia. Pensate che è un rito che si rinnova dal 1954 e quindi pensate all'importanza anche per gli Aquilani. Con Don Renzo iniziamo subito a parlare mentre le immagini del nostro Donatello Ricci ci portano a vedere i primi simulacri bellissimi che stanno uscendo e che portano anche tanta gente di fuori l'Aquila per la curiosità, per la bellezza, per la solennità di questa processione. Don Renzo, 7 aprile abbiamo celebrato ieri il quattordicesimo anniversario del terremoto. Parlando della Pasqua, parlando del venerdì santo mi piace fare un'analogia. La passione di Cristo, la passione dell'Aquila, la Pasqua che mi piace proprio perché poi c'è la resurrezione, la resurrezione dell'Aquila. 14 anni dopo parliamo di una città diversa rispetto a quelle processioni che tante volte abbiamo commentato in questi anni, Don Renzo in cui si passava in un percorso ancora ad ostacoli. Oggi c'è per i cantieri ma sono cantieri di rinascita. Innanzitutto un salutone a tutti veramente grande, con affetto. Dice bene Daniela che si respira un'aria di risurrezione. Io mi ricordo alcuni anni fa, no? La gente era triste, non aveva più il sorriso, mentre ora tutto questo si tocca con mano. La voglia di vivere, la voglia di riprendere la storia umana e tutte queste cose. Veramente la morte e la risurrezione di Cristo hanno questa valenza. Cioè Cristo muore ma per farci risorgere. E noi stiamo risorgendo dagli immani dolori del terremoto, veramente tristezze inaudite. Io poi che confesso molto, ho sentito la testimonianza di tante madri, di tanti papà che hanno perso i loro cari, ma che hanno riacquistato però una certa calma, perché se noi viviamo nella fede, il Signore ci consola, il Signore ci ritempra, ci ridà la forza per superare le avversità della vita. Quindi questa giornata, il venerdì della passione, è la più importante giornata della storia, perché Cristo prende su di sé tutti i drammi del mondo e dice a ciascuno di noi, non ti preoccupare del passato, stai tranquillo, rivolgiti a me, perché io sono la tua storia, io sono il tuo futuro, a me del tuo passato non importa nulla. E questo deve essere veramente lo stimolo per fare una Pasqua buona, per ritrovare le energie. A tale proposito vorrei leggervi come inizio una splendida poesia di una mistica, di una mistica veramente bella, che potrebbe essere la nostra utopia, ma che non è utopia. Se dovessi scegliere una reliquia della tua passione, prenderei proprio quel catino colmo d'acqua sporca, girare il mondo con quel recipiente e a ogni piede cingermi dell'asciugatoio e curvarmi più in basso, non alzando mai la testa oltre il polpaccio, per non distinguere i nemici dagli amici, e lavare i piedi del vagabondo, dell'ateo, del drogato, del carcerato, dell'omicida e di chi non mi saluta più, di quel compagno per cui non prego mai in silenzio, finché tutti abbiamo capito del mio il tuo amore. Questo potrebbe essere come un cartellone per dirci che la riuscita di una persona non è il successo, non è il sesso, non sono i soldi, non sono le grandi acquisizioni del mondo, ma diventare veramente uomini che abbiano un cuore buono, che abbiano un cuore pronto a dividere i beni che noi possediamo con le altre persone, perché la gioia viene dall'amore, oltre all'amore non possiamo dire che troviamo altre cose, cose passeggeri. Ecco, mentre andiamo avanti, stiamo vedendo tutti i simulacri uscire dalla Basilica di San Bernardino. 16 simulacri, per darvi altri particolari, sono dell'artista, del maestro Remo Brindisi. I simboli della processione sono tanti, perché c'è il martirio, il tradimento, la connanna, l'ultima cena, ma anche il volto santo, il dolore, la passione degli apostoli, la via crucis, l'angelo del sacra sindone, l'angelo col calice, la madre addolorata, uno dei simboli più importanti della passione, il Cristo morto, e vengono portati da tante confraternite, poi c'è la collaborazione in questa processione del Venerdì Santo, appunto, oltre ai cavalieri che organizzano, delle varie confraternite, degli scout, anche delle associazioni di protezione civile che si mettono a disposizione. Anche questo è molto importante. Dorrenzo, questa è una comunità che è stata anche scossa, pensiamo alla tragedia di Temperano, è stato un momento particolarmente difficile, però noi prima a Telecamere Spente dicevamo che anche lei vede una comunità più unita rispetto al passato, quindi che messaggio vogliamo dare anche per questa Pasqua? Il messaggio della Pasqua è un messaggio straordinario, perché Pasqua vuol dire passare, cioè entrare nella spiritualità, cioè diventare discepoli del Cristo, e Cristo è venuto non per punirci, ma per ridarci tutta la libertà. E Lui ci ama a tal punto, ci ha amati a tal punto, che per noi, ciascuno di noi, è morto e risorto. Cosa vuol dire? Io ti amo come tu fossi l'unica persona al mondo, quindi il messaggio cristiano è di gran lunga il messaggio più strepitoso, perché è un messaggio di vita, non di morte. Parlano male quelli che pensano che il cristianesimo imponga le cose, assolutamente il cristianesimo è tale in quanto viene a donarci la libertà, quella libertà a cui tutti quanti noi aneliamo. E il messaggio del Vangelo che mi ha conquistato, qual è un Cristo liberatore, e rispetta a tal punto la nostra libertà, che mai e poi mai la calpesta. Sarebbe addirittura per Lui un paradosso, è venire a dare la libertà e calpestare la nostra. Quindi ritorniamo a Cristo, ritorniamo alla preghiera, soprattutto non perdiamo la messa, perché? Perché nella messa noi ritroviamo tutta l'identità, perché il Cristo e Eucaristia ci permea, ci assimila a Lui e ci dà se stesso, cioè ci dà la pace, pace, gioia, amore, mitezza e compagnia bella. Quindi io vi dico, non sprechiamo il tempo, fratelli, perché la vita è breve e solo in Cristo noi possiamo apprezzare le cose belle della vita. Io prima parlavo dei simboli, le immagini di Donatello Ricci ce li mostrano, sta uscendo il simbolo dell'ultima scena. Don Renzo faceva una riflessione molto importante, anche relativamente poi alla messa, ad esempio. Noi spesso ci definiamo cristiani cattolici, ma non praticanti. Invece Don Renzo ci sottolineava proprio l'importanza di questo. Don Renzo, noi veniamo da un... veniamo, stiamo attraversando un momento anche molto bello, perché Papa Francesco ha visitato l'Aquila, ha visitato questa comunità ad agosto e ha lasciato cose importanti, no? Perché a parte il Duomo, che lei sicuramente è contento, perché lei è parroco del Duomo, l'arrivo di Papa Francesco, ma soprattutto direi anche la testardaggine, la tenacia del Cardinale Giuseppe Petrocchi, hanno permesso che finalmente si sbloccasse il cantiere. Poi ha lasciato un'altra cosa, l'anno della misericordia. Sono doni importanti, no? Di cui anche noi in questa Pasqua possiamo fare tesoro. Ecco, Colle Maggio ora, cioè sta diventando una basilica a livelli mondiali, a parte la bellezza, ma il messaggio che in essa noi possiamo trovare. L'Aquila è diventata la città del perdono. E sapete una cosa? Che chi sa perdonare è già in paradiso, perché chi sa perdonare sgombra il cuore da rancori, odio, vendette, eccetera. E quindi dicevo che la perdonanza fa molto leva sul perdono. E vi voglio leggere quello che scrive Santa Faustina Kovaska a proposito del perdono. Gesù le parla e le dice Non tema il peccatore di avvicinarsi a me, anche se la sua anima fosse come un cadavere in piena putrefazione, anche se non ci fosse più rimedio. Non è così davanti a Dio. Le fiamme della misericordia mi consumano ed io desidero effondere sulle anime degli uomini. Quanto più grande è la misericordia degli uomini, tanto maggiori diritti hanno alla mia misericordia, perché desidero salvare tutti. Questo è il senso della Pasqua. Questo è il senso del cristianesimo. E io vedo in giro che le persone si stanno un pochino allontanando. Diceva appunto Daniela della Messa, no? Se noi vogliamo crescere, vogliamo evolverci, trasformarci, la Messa è il momento culmine, perché l'identità ce la dona il Signore gratuitamente. Quindi lo spirito che deve animare questa stupenda Via Crucis qui dell'Aquila è proprio riannodare un discorso interrotto un po' con il Signore, a causa anche di una società mass mediale che fa leva su altri valori che poi non danno la pace. Ecco, io vorrei proprio dare risalto a queste cose, perché da prete, anziano, voglio veramente bene alle persone. E si è in pace quando si vuole bene a tutti, a prescindere dalle categorie sociali, culturali e compagnia bella. Ecco, Don Renzo, noi l'abbiamo detto tante volte, questa processione del Venerdì Santo è molto bella, la vengono a vedere anche da fuori, no? È una tradizione importante, al di là poi dell'aspetto religioso, che è quello essenziale e fondamentale. Ma quanto è importante anche per una comunità ritrovarsi attorno a queste riti identitari? Bene, l'uomo è un essere sociale, cioè un cristiano che vive da solo la sua spiritualità non entra nella storia di Cristo, perché noi siamo relazione, relazione secondo quanto viene a significare la Santissima Trinità, cioè noi siamo relazione d'amore e se non ci affidiamo a questo, noi non cresciamo. E vorrei leggere una piccola cosa, no? Vedendo la gente disorientata, quanto dice un grande profeta, no? Dice, la persona che non è in pace con se stessa sarà in guerra con il mondo intero. Ecco il motivo per cui il Cristo è sceso sulla terra, per venirci a donare la pace, perché finché non abbiamo la pace, proiettiamo sul mondo esterno tutte le nostre paure, i nostri bisogni, le nostre aggressività. Quindi Cristo è veramente il medico dell'anima, il medico dell'anima e vorrebbe, lui che è un grande sognatore, che tutti quanti stessimo con lui, non ci chiede null'altro se non poterci fare il bene, il bene assoluto e vederci in pace come una madre vede il figlio. Però purtroppo, Don Renzo, come lo dicevamo l'anno scorso, lei parlava di pace e nel mondo questa pace non c'è. Abbiamo parlato anche l'anno scorso del conflitto tra Russia e Ucraina, ma ci sono anche tanti conflitti dimenticati nel mondo, quindi la pace è ancora utopia. Certo, si parla tanto di pace, ma è una pace intesa come tregua, ma la vera pace viene dal rapporto con l'alto. Se noi leggiamo la storia del Vangelo, Nicodemo, quando la sera va da Gesù, e Gesù gli dice, ma guarda che tu puoi rinascere. E il Signore risponde, Nicodemo risponde, ma come posso rinascere? Sono vecchio, come posso rientrare nel grembo di mia madre? E il Signore risponde, tu puoi ridiventare una persona libera dall'acqua e dal battesimo, dalla vita spirituale. Quindi, se noi iniziamo, io dico una piccola cosa, un piccolo modo, recitiamo tre volte al giorno il Padre Nostro con molta attenzione e questa preghiera bella, voluta dal Signore, ha il potere di trasformarci, di darci pace, ma dobbiamo essere perseveranti, perché in fondo non ci chiede nulla, il Signore ci vuole gioiosi e quindi capaci di poter dare una mano nel grande coacervo di questo mondo dove non imperano più i grandi valori esistenziali, ma ormai è diventato un magma di arrivismo, di economia, sembra che tutto dipenda dall'economia. Quindi l'uomo non è economicus, come diceva Marx, ma diceva che l'uomo è un uomo spirituale. E per quanto riguarda l'antropologia, chi è l'uomo? E risponde la Chiesa dicendo l'uomo è immagine e somiglianza di Dio. Noi portiamo dentro questa immagine, quindi noi siamo figli e se non ritroviamo l'accordo con il padre siamo perduti. Questa è la grande speranza che noi abbiamo. Gratuità, solo che noi la gratuità non la apprezziamo. Tutto deve avere un prezzo e gratuito sembra così, ininfluente. Ecco, e nel frattempo, e grazie a Don Renzo per quest'altra riflessione, sta uscendo un altro dei simboli e della processione del Venerdì Santo, la Sacra Sindone, che viene portata dal Comitato Croce Rossa dell'Aquila, perché ogni simulacro, prima abbiamo visto ad esempio passare l'associazione Iemonnanzi, a proposito di Papa, che avevamo citato prima, che il Papa nella sua Omelia all'Aquila ha citato proprio questa associazione che già era andata a trovarlo a Roma. Questi simboli importanti, Don Renzo, ne abbiamo citati alcuni prima, il martirio, il tradimento. La Madre Adolorata è un simbolo che mi piace tanto, perché mi fa pensare sempre al 6 aprile, ciò che ha vissuto questa città. Ecco, una piccola cosa, la Sindone, noi qui in Abruzzo abbiamo qualcosa di speciale, a Lanciano abbiamo il volto, no, a Lanciano abbiamo il miracolo eucaristico, mentre a Manoppello abbiamo il volto santo. Sono stati fatti degli studi, in base ai quali c'è una grande analogia, una grande somiglianza tra il volto della Sindone e il sacro volto di Manoppello. Diceva poi Daniele della Madonna, chi non ama la Madonna? Tanto che, io leggevo su un libro, no, che la gente è molto più sensibile al volto della Madonna, perché è la madre e tutti sappiamo che l'amore della madre è unico, non si trova più, nessuno ama come la madre, per cui noi Dio possiamo conoscerlo per analogia, cioè quando ci ama la madre e questa è l'immagine del Signore. Noi abbiamo bisogno dell'amore, abbiamo bisogno di stare vicino a Dio e partecipare anche a queste manifestazioni che riscaldano l'anima, tacitano le grandi ambizioni sterili degli uomini. Ecco. Ecco, Durrenzo, parlando di madre, parlando di altri simboli, abbiamo i carabinieri, l'arma dei carabinieri che sta portando proprio la croce, la Madonna che non ha mai abbandonato Gesù neanche sopra la croce e vediamo questo che è uno dei simboli ovviamente non antichi della processione del Verdi Santo, il nostro malgrado è diventato però un altro simbolo importante, proprio la croce, dove c'è scritto Martiris e Aprile 2009, lo vedete nell'inquadratura del nostro Donatello Ricci. e a seguire dopo l'arma dei carabinieri vediamo anche alcuni parenti, alcuni familiari delle vittime del terremoto e ci sono anche gli sbandieratori che stanno portando altri simboli e è molto bella anche questa cosa della partecipazione collettiva, di tante confraternite ma non solo, di tante associazioni che poi in questa città sono sempre molto presenti e si occupano di tanti aspetti della vita cittadina. Gli sbandieratori sono un esempio, poi abbiamo visto anche i carabinieri che si occupano della nostra sicurezza, la scorta d'onore del Cristo morto quest'anno alla polizia, quindi è bello vedere anche questa sinergia. Tra l'altro, diciamo, questa è una città che dopo 14 anni del terremoto, lo dicevamo prima, con Don Renzo, si è ritrovata, diciamo, attorno ad alcuni anche simboli, ad alcuni riti identitari come questa e nel frattempo stiamo vedendo con le immagini di Donatello altri simulacri, l'Angelo Colcalli, cioè ci stiamo avviando pian piano perché fra un po' sarà la volta, diciamo, del simulacro più importante, di quello che ci emoziona tanto ogni volta a vedere. Questo Cristo morto, Don Renzo Cristo, che veramente si è sacrificato, è stato deriso, umiliato, è stato uno degli ultimi, ma che poi ha regalato davvero la sua vita al mondo, ha salvato il mondo donando la sua vita. Ma io direi una cosa, magari Cristo non è riconosciuto come Dio da molti, però non c'è intellettuale, non c'è romanziere, non c'è filosofo che non attribuisca al Vangelo un valore assoluto. Diceva Hegel, Schelling, io capisco, credo ai miracoli, ma faccio difficoltà a vedere in Cristo Dio, l'uomo Dio. Questo è bello. Poi mi diceva sempre della Madonna, confessando, le persone che venivano a piangere, la imploravano, Vergine Madre, aiutami, aiuta la mia famiglia, eccetera, eccetera. E poi è bello anche la testimonianza di gruppi di gente. Per esempio, diceva Daniela, parlava delle forze dell'ordine, che io amo tanto perché ne abbiamo bisogno. oggi in un tempo di furore, agonistico, di chi mette un pochino le cose al posto giusto. Quindi, anche noi, noi possiamo fare tanto, basta fare bene il nostro dovere per meritare il paradiso. Non dobbiamo fare grandi cose. Ecco, evitare il male, evitare di trattare l'uomo come oggetto, perché l'uomo è figlio di Dio e Dio è geloso di noi. Guai che ci tocca, è come la madre. Ecco, nel frattempo stiamo vedendo le immagini del coro che durante il percorso intona poi il coro del Venerdì Santo diretto dal maestro Carlo Mantini che intona durante il percorso il Miserere dei Selecchi. Anche questo altro momento molto suggestivo, significativo e atteso della processione del Venerdì Santo che sta arrivando diciamo davvero alle battute finali con gli ultimi gonfaloni prima del Cristo morto. Ci fa piacere che ogni anno diciamo vediamo sempre più gente che partecipa a questo rito perché noi siamo a San Bernardino e ci sono tante persone qui ma poi ce ne sono anche durante il percorso. Quindi è bello vedere come poi al di là dell'aspetto religioso che è fondamentale lo dicevamo prima con Don Renzo ci sia anche la volontà di stare insieme e di partecipare a quelli che sono riti collettivi che tanto Don Renzo ci sono mancati perché noi lo dicevamo prima questa processione non si è mai interrotta soltanto con il terremoto per ovvi motivi e con la pandemia e quell'anno è stato molto brutto non farlo. Ecco io mi ricordo di aver letto un libro tanti anni fa era il rito perduto che cosa è il rito? Cioè l'uomo ha bisogno di sentirsi in una folla per sentirsi appartenente a qualcuno per uscire da sé ed acquisire una valenza universale ecco sono rimasto colpito dalle donne vestite di nero che rappresentano un pochino il lutto il dolore ed io penso che la nostra società sta commettendo un errore gravissimo il dolore non è uno scandalo il dolore è redentivo cosa avrebbe se Cristo non fosse morto e risorto per noi nessuno potrebbe salvarsi quindi il dolore ci fa pensare ci fa uscire dall'egoismo dai sensi di onnipotenza ci fa pensare già il mondo greco già il mondo greco diceva che le cose belle nascono anche dal dolore pensiamo alla tragedia greca e così però a dare risoluzione a questo dolore che è sempre terribile è stato il Cristo il Cristo che ci viene a dire il dolore sarà col mio aiuto redentivo quindi il dolore è riacquistato un senso e diceva Nice il dolore senza una direzione diventa tragedia il dolore invece visto una dimensione redentiva diventa redenzione diventa salvezza quindi il dolore fa parte dell'uomo diceva Leopardi l'uomo nasce piangendo e muore piangendo e così dobbiamo rivalutare tante cose e io vi dico un'altra piccola cosa prendiamo qualche buon libro ritorniamo a leggere perché ora non si legge più tutto sui mass media e compagnia è bello invece prendere un bel libro un libro che abbia tanta sapienza e che ci riempia il cuore beh questo è un bell'invito quello di Don Renzo perché è vero non si legge più addirittura a me è una cosa che non piace ci sono questi tablet per leggere i libri è una cosa per me inconcepibile perché mi piace ancora l'odore della carta il piacere di sfogliare Don Renzo dava un bel consiglio ma Don Renzo diciamo che forse non tutti sanno che è stato diciamo un insegnante nella sua carriera è insegnato al liceo quindi lui è una persona molto molto corta in questo momento grazie alle immagini del nostro Donatello stiamo vedendo l'uscita dalla Basilica di San Bernardino di sua eminenza il cardinale Giuseppe Petrocchi accompagnato dal vescovo osidiare Monsignor D'Angelo ed ecco cominciano a uscire rappresentanti della Polizia di Stato che abbiamo detto scorta scorta d'onore quest'anno affidata proprio a loro ogni anno l'associazione dei Cavaliari del Venerdì Santo sceglie un'associazione in questo caso è stata la Polizia un anno c'era stata l'Ama insomma ogni anno si sceglie chi fa la scorta Don Renzo un ultimo pensiero perché poi dopo l'uscita del Cristo morto chiuderemo il nostro contributo con Reteotto un ultimo pensiero per salutare anche i nostri telespettatori questo è il momento più bello e significativo vengono proprio i brividi il Cristo morto è l'emblema di tutto il centro del mondo è il Cristo morto e il risorto diceva Daniela non si preoccupava un po' ma penso di non poter parlare poter ascoltare perché la gente rumoreggia non si sente un respiro siamo soltanto noi se vogliamo che stiamo commentando proprio siamo la gente è muta di fronte a questo mistero perché il Cristo inquieta sempre nel bene nessuno può rimare può restare così indifferente a tanto amore sparso con il sangue per tutti noi ecco questo è bello vedere questo silenzio proprio ascoltare questo silenzio che parla il silenzio del mistero che sembra scomparso ma che dentro di noi c'è sempre ecco veramente Signore Gesù aiutaci abbiamo tutti bisogno di Te siamo veramente affamati del Tuo amore perché noi non siamo capaci di donarci amore l'amore viene solo da Te aiutaci a capire oh Santo Spirito ecco e questo lo vedete il simulacro con il Cristo morto Don Renzo commentava ma c'è davvero un silenzio surreale qui all'Aquila perché la gente insomma è il raccoglimento del resto questo è il momento più importante solenne suggestivo l'uscita del Cristo morto dalla Basilica di San Bernardino e lo ripetiamo ancora una volta quest'anno la scorta d'onore è stata affidata alla Polizia di Stato il Cristo morto fermo davanti la porta di San Bernardino prima di attraversare le vie del centro storico è davvero uno dei momenti più belli più suggestivi significativi per un cristiano davvero il significato di tutto la passione Don Renzo facciamo davvero un'ultima riflessione la passione ma poi la resurrezione quindi l'augurio finale che vogliamo dare l'augurio sapete qual è Cristo risorto vuol dire che tu durante la giornata durante la tua vita che ti che soffri attraverso i momenti delicati implora il cristianesimo è un'implorazione non bisogna così pensare che dobbiamo stare 24 ore su 24 recitare rosari e implorare il Signore per ogni eventualità e San Paolo diceva e vorrei lasciarvi con questo pensiero diceva siate lieti sempre pregate incessantemente e ringraziate in ogni evidenza e a dire quando le cose non vanno bene noi ringraziamo perché siamo sicuri che Dio sta operando nella nostra miseria quindi siate lieti sempre pregate incessantemente ringraziate in ogni evenienza perché tutto si traduce in positività se noi abbiamo la fede e ci affidiamo a quel padre che ha mandato il figlio a morire sulla croce per farci risorgere ecco grazie Don Renzo è davvero l'ultimo simulacro quello portato della madre dolorata portato da abbiamo visto altre associazioni e poi tutte le autorità che stanno uscendo il sindaco Pierluigi Biondi e le altre autorità dalla chiesa di San Bernardino e noi ringraziamo Donatello Ricci che ci ha fornito queste bellissime immagini di questa solenne processione del Cristo morto e grazie a Don Renzo Don Renzo grazie è un contributo sempre preziosissimo il suo grazie io vi saluto vi abbraccio uno per uno e sono felice di aver trascorso questi minuti con la mia grande amica Daniela a cui voglio ben infinito grazie ancora Don Renzo grazie a tutti i telespettatori di Rete 8